Ciao ragazzi, iscrivetevi e lasciate like Allora, Torino-Inter termina 1-0 in favore dei Granata Gol di Izzo, che risulta essere decisivo Inter sicuramente, non di certo positiva Sicuramente nel secondo tempo ha provato a rimettere la partita a posto Però diciamo che il Torino si è difeso bene In fase difensiva il Torino diciamo che non ha sbagliato Ma anche ha messo il cuore, ha messo la grinta, ha messo la determinazione, ha messo la cattiveria Cosa che non ha messo sicuramente l'Inter oggi in campo Inter che veniva da uno 0-0 contro il Sassuolo E che quindi all'Inter si serviva una reazione Dopo questo 0-0 invece, reazione che non è arrivata Addirittura è arrivata una sconfitta Anche abbastanza pesante Anche abbastanza pesante Per provare quantomeno a rincorrere il Napoli Invece l'Inter perde e dunque non si avvicina al Napoli Anzi il Napoli si allontana di un punto Male male l'Inter, male male Il primo tempo secondo me il Torino ha assolutamente meritato il vantaggio Specialmente nella seconda parte del primo tempo in cui il Torino stava creando occasioni Poi è arrivato un gol forse anche fortunoso di Izzo Andanovic un po' sorpreso Però secondo me poteva fare sicuramente molto di più Il portiere che ha salvato tantissime volte l'Inter Però sicuramente l'errore di Andanovic c'è in questo gol Però comunque il Torino si è meritato questo vantaggio E si è meritato questa vittoria Perché ci ha creduto fino alla fine Ha conservato il risultato fino alla fine Con il cuore ha lottato per Mantenere il vantaggio E poi forse ha condizionato anche l'espulsione di Politano Che non so che cosa abbia detto Politano all'arbitro Ma evidentemente se Politano è sottoespulso Vorrà dire che qualcosa che non doveva dire Gliel'ha detto all'arbitro E quindi secondo me Politano ha sbagliato Perché in un momento così delicato del match Non puoi lasciare in inferiorità numerica la tua squadra La specie se è in svantaggio E che deve tentare il tutto per tutto Per provare a pareggiarla E quindi già il fatto che Se è in svantaggio per di più Per negli ultimi minuti Ha lasciato la tua squadra a giocare 11 contro 10 Male male Politano E quindi sicuramente Deve crescere sotto questo punto di vista Politano Magari sotto il punto di vista mentale Perché serve anche mentalità Serve lucidità in questi frangenti Serve lucidità nel non commettere certi errori Come questo Perché più che altro Si è sfogato Politano Si è sfogato in un momento Che sicuramente non stava andando bene l'Inter Politano si è sfogato Infatti l'Inter stava creando qualcosa Però ripeto è stato molto bravo il Torino In fase difensiva Però quando gli ha tolto Anche una certa certezza Perché Politano È tra i migliori in questo momento Dell'Inter Quando all'Inter Li togli quella certezza Allora è assolutamente difficile Riprenderla E quindi il mio video è finito Spero vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate like E fatemi sapere la vostra con un commento Ovviamente come sempre E seguitemi sui miei social Instagram Facebook e Twitch Trovate tutto in descrizione Detto questo Ciao ragazzi